Buonasera a tutti e bentornati nel canale che vuole valorizzare il bellissimo e straordinario Piemonte. Questa sera vi porto ad Ameno, vedete qui sopra scritto Ameno in piemontese Amen, dovrebbe pronunciarsi così, mi perdonino la pronuncia se è sbagliata, in provincia di Novara, ma vi porto per raccontarvi quello che accadrà, come potete vedere in foto, il 27, 28 e 29 settembre, quindi prossimo weekend, venerdì, sabato e domenica. Ci sarà la, si terrà la famosissima e bellissima Kladag Fest. Che cos'è? Allora, Kladag in effetti ha un doppio significato. C'è il Kladag Ring, che è un anello irlandese tipico di fidanzamento, che è stato raffigurato benissimo, qui vedete dove vi sto indicando io, ed è composto da due mani che sorreggono un cuore sormontato da una corona, che stanno a simboleggiare l'amicizia, l'amore e la lealtà. Andate a cercare sulla rete Kladag Ring e guardate che è stato riprodotto il disegno fedelmente a quello che andrete a vedere. E poi l'altro significato è che in gaelico Kladag è una sabbia rocciosa tipica del posto, quindi siamo, come dicevo prima, anello irlandese, e quindi siamo in Irlanda, perché il gaelico, che fa parte di un gruppo di lingue celtiche, è un idioma tipico dell'Irlanda e di alcuni posti specifici della Scozia, quindi siamo a nord, no? Nel Gran Bretagna, insomma, ecco. E andremo quindi a vedere questa bellissima festa con una serie di eventi, spettacoli, personaggi, ma veramente tanto, tanto, tanto da vedere in questi tre giorni. E cosa aggiungere? A proposito della lingua celtica, usi, costumi, rappresentazioni, eccetera, vi voglio confidare un piccolo segreto, una novità, direi. Questo celtico, no? Questa parlata celtica è anche usata, ovviamente parliamo di persone anziane, ma anche gli spettacoli ancora oggi vengono fatti, quindi rappresentazioni ancora oggi li possiamo trovare in alcune aree specifiche del Piemonte, sì, nella provincia di Cuneo, siamo a sud, sud-ovest di Cuneo, la parte che va verso la Francia, ma ne parleremo più avanti. Adesso concentriamoci su questa bellissima festa che si esiterà, appunto, come dicevo, ad Ameno e che siamo, siamo a circa 50 km a nord di Novara, siamo a est del lago d'Orta e a ovest del lago Maggiore, siamo a circa 10 minuti da Orta a San Giulio, vi consiglio in casa di andate di mattina di visitarlo, un paesino bellissimo che si trova proprio sul lago, e nel posto è conosciuto anche, ho fatto delle foto in zona, il famosissimo ristorante del chef Antonino Canovaciolo, Villa Crespi, si trova proprio lì vicino. Comunque, andiamo a vedere adesso il programma, questo qui, adesso provo ad ingrandire un pochettino, è il Clubberg Fest che si è tenuto, vedete, dal 30 lunedì 2 ottobre 2022, quando sono andato io, quindi due anni fa, questa è la candina, no? Che ho preso quando sono andato per caso ad Ameno, per fare delle foto di altri luoghi, eccetera, e mi sono fermato lì in un bar a prendere un caffè, e c'era questo dépliant, insomma, e vedete, free entry, quindi entrata libera, adesso comunque vi spiego tutto, musica, arte, cultura celtica. Comunque adesso vi spiego il programma e quant'altro, però comunque potete trovare tutto quello che io vi dirò nel loro sito www.gladdagfest.com digitate questo link, diciamo, questo claddagfest.com e trovate tutte le informazioni che vi dirò io, e qualcos'altro ovviamente, no? Io mi dirò solo al programma, invece lì trovate molto di più. Andiamo a vedere, ecco qui, ho provato, questa è la parte retrostante, no? di quella locandina, di quella dépliant che ho preso, e sta appunto a indicare i luoghi, andiamo a vedere un po' meglio, ho provato a fare un ingrandimento, ho provato a fare anche un ingrandimento ancora meglio, vedete? Ecco qua, questa è tutta la zona dove vengono fatti, si svolgono, insomma, dove si svolge la festa, quindi vengono fatti tutti i spettacoli, eccetera. Vedete qui c'è Museo Tornielli, Piazzetta dei Liutai, poi vedete il mercatino celtico, Piazza Marconi, vedete qui Parco Neogotico, poi qui c'è Circolo delle Alpi, poi qui ci sono ristoranti, hotel, Emporio di Serena, eccetera. Il parcheggio, vedete qui, zona Campo Sportivo, Via Matteotti, il parcheggio si trova in Via Matteotti, che è a sud, dove c'è questo Via Battaglia di Duno, dove c'è questo parcheggio, un po' più giù, quindi un po' più comodo per chi viene da Novarmaro, comunque il paesino è piccolino, ci sono poco meno di mille anime, però è stupendo, veramente, è troppo troppo bello, quando l'ho visto ho girato, ho fatto anche altre foto, durante il giorno, qualcosa di veramente stupendo, andate di mattina, andate a vederlo, comunque, questa vedete la Clubfest 2024, beh questa, quando ho fatto la foto, ma adesso, sette giorni adesso ne mancano di meno, andiamo a vedere il programma, eccolo qua, allora prova stringere, perché così lo vediamo per intero, allora il programma, vedete scarica il programma, beh comunque, digitate sopra, ad uno ad uno, vedete tutti i giorni, vedete giorno 1, che parte dal 27, giorno 2, giorno 3, poi attività, area, vecio, quindi rievocazione storica, giochi e laboratori, alle 17, vedete centro storico, in piazza Marconi, apertura, mercatino cettico, e stand di liuteria, quindi abiti cettici, creazioni in pelle, legno, fettro, corno ed osso, libri, erbe ed essenze, tarocchi e rune, sculture, minerali e pietre, gioielli, armi, molto altro ancora, quindi guardate un po' che cosa andate a vedere, ma anche per curiosità, andate, insomma andate a vedere, e poi vedete, alle 19.30 a Circo delle Alpi, in piazza Cavalieri, apertura cucina, circolo e street food, quindi si mangia e si beve, quindi questo non manca, vedete, cucina popolare, verso il circolo delle Alpi, street food, a cura di tutti i vari enti, insomma la locanda, la taverna, che offrono, offrono, offrono nel senso che, offrono la loro esperienza, non è che offrono il cibo, offrono l'esperienza, nel cucinare queste pietanze, molto prelibate. Alle 21, area parco, vedete, in piazza Cavalieri, concerto a ballo, aerocorda, concerto è del New Fork, con influenze celtiche, slave e classiche degli aerocorda. Poi sempre alle 21, parco Tornielli, quindi in piazza Marconi, la pipa che nasce dal bosco, incontro per appassionate, cultori dell'arte della pipa, a cura del pipa, club Novara, per confondarsi e provare nuove fragranze. Quindi guardate un po' cosa potete vedere lì. Alle 21.30, sembra in parco Tornielli, c'è alla ricerca di Elfa Borg. Un bambino chiese a un elfo come diventare come lui, e l'elfo rispose che sarebbe diventato ciò che si desiderava, seguendo i suoi sogni, e donandogli un cuore rosso, proseguì verso la magica Elfa Borg, a cura di Sagitta Firefork. Allora, Sagitta Firefork, ho fatto delle ricerche, è un artista polietrico di circa 36 anni, è un suo nome d'arte, ma lui in effetti il suo nome è vero, è Paolo Pecis, canta, suona diversi strumenti, ho visto qualche suo video, qualche suo spettacolo, qualche sua presentazione, una cosa posso dirvi, non perdetelo, è bravissimo, bravissimo, quando l'ho sentito, l'ho visto nella rete, sono rimasto veramente sbalordito, perché è bravissimo, comunque andate a vederlo, ad ascoltarlo, merita, merita. Andiamo alla pagina successiva, vedete, alle 22.15, sempre Parco Tornielli, concerto Evenfall, vedete Italia, Scozia, e la musica del crepuscolo, un viaggio vincente attraverso la musica tradizionale irlandese, visitate in chiave originale, e in tonalità e sonorità inaspettate, quindi mettetevi comodo, eccetera, eccetera. Alle 22.30, scusate, c'è Aria Parco, in Piazza Cavalieri, concerto a ballo, l'Ira Dance, o l'Aira Dance, mi perdono la pronuncia, credo che sia l'Aira Dance, è un trio, vedete questi tre ragazzi, è un trio di musica folk, che attraverso la comunicazione di sonorità particolare, coinvolge il pubblico, in un viaggio attraverso composizioni originali folk, che combinano stilemi della musica tradizionale irlandese, francese, bretone e italiana, per ricreare brani che rimandano al folk europeo, quindi da non perdere. E alle 24, chiusura della prima giornata, quindi dalle 17 alle 24, c'è l'imbarazzo della scelta, dove andare, cosa fare, cosa vedere, cosa ascoltare. Bene, io intanto mi fermo qui, il prossimo video andiamo a vedere la seconda giornata e così via, quindi non perdetevi il prossimo video, io come al solito vi saluto con un abbraccio affettuoso, ci vediamo al prossimo video, ciao!